Musica Raffaele Mancuso, Assessore del Comune di Carlopolo Siamo qua a Soveria Mannelli per la prima edizione della Fiera dell'Artigianato e dell'Agricoltura nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'istituzione di questo istituto Buongiorno, per me essere qui oggi ha una doppia importanza quella di rappresentare sicuramente il Comune ma soprattutto perché io sono un ex studente della scuola agraria di Soveria Mannelli diplomatomi nel 95 quindi è un'emozione veramente grande e soprattutto vedere a distanza di tanti anni questo entusiasmo, questa organizzazione soprattutto nelle nostre zone interne che sono un pochettino penalizzate è veramente bello, è entusiasmante e speriamo che sia l'inizio di qualcosa che possa sempre portarci in giro o nella regione e anche fuori perché le aere interne sono il motore di tutta la regione anche se siamo un po' distanni da tutto quanto però noi ci siamo noi diamo il nostro contributo per cercare di portare avanti tutto quanto il comprensorio grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti